Si parla dei navigator, dell'importante ruolo che hanno nella nostra regione presso i centri per l'impiego. A CGL chiede il rinnovo del contratto ma anche una stabilizzazione, un riconoscimento di questo lavoro? Innanzitutto il riconoscimento di questo lavoro perché sono stati sempre bersaglio di strumentalizzazioni politiche e sociali visto che sono stati sempre abbinati al reddito di cittadinanza. In realtà sono dei collaboratori, quindi innanzitutto ci tengo a dire che sono dei precari che aiutano i precari disoccupati che possono apportare molto alle politiche attive, quindi ai centri per l'impiego perché li supportano sia nell'opera dell'inserimento lavorativo per i percettori di reddito di cittadinanza ma anche per tutti coloro che si approcciano ai centri per l'impiego visto che tengo a ricordare che i centri per l'impiego attualmente sul nostro territorio abruzzese sono in smart working o chiusi al pubblico invece i navigator sono ancora attivi, tuttora attivi e dall'inizio della loro attività hanno intercettato 18.000 disoccupati in più in questo periodo di pandemia hanno contattato 7.000 percettori di reddito di cittadinanza e intercettato anche 5.000 nuovi posti di lavoro ai quali sono riusciti un terzo di loro a inserirli in aziende quindi la loro figura sta funzionando, sono stati lasciati molto soli e noi speriamo che anche con un'interlocuzione con la regione di dare un futuro occupazionale a questa figura e di inserirli in un'ottica di riforma delle politiche attive ma anche di potenziamento dei centri per l'impiego Quanti sono i navigatori nella nostra regione? 53, li abbiamo quasi tutti iscritti con noi perché si aspettano appunto un lavoro che sia collettivo, che sia regionale anche perché entreranno a far parte anche di un coordinamento nazionale visto che c'è anche un tavolo nazionale